Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al secondo webinar del nostro ciclo di webinar Progettare i servizi pubblici digitali di qualità. Questi sono webinar organizzati da Formex PA per un progetto che realizza con Agid e sono in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale. Appartengono al Dipartimento per la trasformazione digitale i due esperti di oggi che vi illustreranno gli strumenti e i casi pratici di progettazione per i servizi pubblici di qualità che sono Ilaria Scarpellini e Daniele Tabellini. Siccome è un programma molto ricco perché gli interventi sono tre e avremo anche alle 15.25-10 minuti di pausa caffè io ruberei poco tempo, vi ricordo soltanto che gli esperti alla fine di ogni comunicazione risponderanno alle domande che voi potete porre in chat e che io metterò in evidenza e alla fine di ogni comunicazione abbiamo il tempo per rispondere a delle questioni. Vi ricordo anche che se le domande dovessero essere numerose vi rimanderemo a una risposta scritta che verrà pubblicata sulla pagina di Eventi PA. Lascio la parola a Ilaria Scarpellini con la sua prima comunicazione che è dalla progettazione allo sviluppo fino alla messa in produzione. Buon pomeriggio a tutti, è un piacere trovarvi qui nuovamente dopo l'ultimo incontro della settimana passata. Come anticipava Patrizia, oggi parleremo in generale del processo di progettazione dei kit proposti a Designers Italia per poi andare nel dettaglio e vedere dei casi studio applicati prima in fase più iniziale di ricerca e poi in maniera più pragmatica anche grazie al mio collega Daniele Tabellini. Allora, iniziamo dal primo tema che riguarda appunto progettare, come sapete bene, servizi pubblici digitali. Andremo a fare una panoramica sul processo di progettazione come avevamo anticipato precedentemente per poi approfondire in merito alle diverse fasi e diversi kit che potete utilizzare attraverso la piattaforma i Designers Italia. Allora, volevo iniziare da una premessa. Come abbiamo discusso l'altra volta, la digitalizzazione dei servizi pubblici non vuol dire l'informatizzazione dei processi. Quindi anche il processo che bisogna adottare per far sì che questa digitalizzazione sia un effettivo miglioramento dell'esperienza d'uso piuttosto che una digitalizzazione para-para del servizio analogico, volevo portare alla vostra attenzione questa citazione di Roberto Verganti, che è un designer italiano, forse lo conoscete anche voi, che è il discorso del fatto che non si può innovare attraverso la tecnologia senza trasformare il significato che i prodotti, quindi anche i digitali, hanno nella vita delle persone. Ma addirittura io vorrei iniziare da una premessa, che è che in primis bisogna comprendere qual è il significato che i prodotti hanno nella vita delle persone per poterlo poi innovare attraverso la tecnologia digitale. Per questo oggi vi proponiamo il nuovo, diciamo stiamo per mettere online la nuova sezione di kit di Designers Italia che si strutturano con il nuovo approccio progettuale di Designers Italia che non è molto diverso dagli altri processi di progettazione, è un processo strutturato in cinque macrofasi che servono come riferimento per impostare il progetto, ma anche per capire quali sono le attività e le competenze da coinvolgere, le attività da svolgere e quindi anche gli strumenti da utilizzare nelle rispettive fasi e capire anche come farlo nell'ordine ottimale per gli obiettivi, le tempistiche e la buona riuscita del progetto. Quando diciamo progetto la domanda viene da sé, è un termine un po' vago, di che tipo di progetto stiamo parlando? Stiamo parlando di progettare per esempio un nuovo servizio ma anche di digitalizzare un servizio esistente oppure riprogettare o progettare uno dei suoi touch point digitali ovvero una delle interfacce attraverso cui l'utente può fruire del servizio. Quindi questo processo applica in ugual misura ed è ugualmente valido a seconda, cioè nelle diverse casistiche ovviamente può essere leggermente flessibile ai diversi scopi e una delle caratteristiche principali è che questo processo può essere considerato iterativo anzi il design come abbiamo menzionato nell'intervento precedente adotta un approccio iterativo ciò vuol dire che queste cinque fasi non sono da intendersi con un inizio o una fine ma come una cosa che può essere ripetuta ciclicamente all'occorrenza. Adesso andiamo a vedere quali sono queste cinque fasi allora in maniera schematica abbiamo organizzato anche cioè il processo progettuale può essere organizzato secondo queste cinque fasi che partono ovviamente da una prima fase organizzativa fino a poi ad arrivare a una fase di validazione dei risultati ottenuti passando per tutte le fasi intermedie del processo progettuale. La prima fase, quella che abbiamo definito dell'organizzare è una fase in cui ci si occupa di pianificazione e coordinamento quindi bisogna impostare il progetto dal punto di vista gestionale e operativo definendo i risultati che si vogliono ottenere sia in termini di requisiti che di standard di qualità e ovviamente è necessario in questa fase valutare anche le competenze necessarie allo svolgimento del progetto. In questa fase di pianificazione ci sono comunque sempre degli strumenti molto utili a supporto che sono di solito propedeutici alla pianificazione operativa ma anche alla definizione delle regole di ingaggio e di requisiti di prodotto. Io qui sto parlando di strumenti in generale non nello specifico offerti da Designers Italia soprattutto per questa fase il project management è la disciplina, la competenza più presente ed è ovvio che nel contesto però della pubblica amministrazione ci sono alcuni temi che è bene affrontare sin da subito come l'approccio open source la gestione della privacy e della sicurezza e l'integrazione con le piattaforme abilitanti e con tutte quelle che sono le diverse linee guida e iniziative anche a livello della governance. C'è un problema con l'audio? Mi dispiace per chi non dovesse sentirmi cerco di parlare ancora più lentamente. La seconda fase del processo progettuale è la fase che abbiamo chiamato comprendere ovvero una fase in cui c'è una ricerca iniziale e poi un'analisi delle informazioni raccolte in questa fase l'obiettivo è di acquisire una maggiore consapevolezza del quadro complessivo in cui il servizio digitale o il touch point o l'interfaccia digitale si andrà ad inserire e quindi capire l'effettivo contesto d'uso del servizio. È una prima fase esplorativa che comunque deve essere molto strutturata in termini di obiettivi della ricerca focus della ricerca così che anche possano essere scelte poi le tecniche e le metodologie più appropriate per sia raccogliere le informazioni che analizzarle. Gli strumenti che sono necessari in questa fase sono veramente eterogenei perché ci sono tantissime tecniche di ricerca e moltissime tipologie di strumenti a supporto che sono utili a raccogliere e schematizzare le informazioni. Quindi variano molto dalla tipologia di ricerca che si vuole svolgere e vedremo poi nella seconda parte di questo intervento un esempio applicato che ci farà capire in quali casi è più o meno appropriato una tecnica piuttosto che l'altra. Tutti questi strumenti in ogni caso hanno lo scopo ultimo di comprendere la situazione attuale sia dal punto di vista dei processi che consentono l'erogazione del servizio e quindi degli stakeholder anche interni coinvolti nel progetto sia ovviamente e principalmente dal punto di vista dell'esperienza utente. La terza fase del processo progettuale è proprio quella del progettare quindi tutto ciò che concerne l'ideazione e prototipazione della soluzione che si andrà poi a realizzare sia essa un servizio o un touch point digitale. Quindi in questa fase l'obiettivo è di fare diversi definire in maniera sempre più dettagliata partendo da un'idea fino a definire un concept e poi un prototipo la soluzione proposta. In questa fase è utile coinvolgere spesso anche gli utenti e stakeholder in ruolo attivo con un ruolo attivo proprio in sessioni di coprogettazione cercando insieme le varie opportunità per migliorare il servizio sempre cercando di trovare un buon compromesso tra le esigenze dell'utente e le esigenze anche dell'erogatore del servizio dal punto di vista strategico e tecnologico. Ovviamente questa fase è fortemente influenzata da tutto ciò che è emerso nella fase del comprendere che va preso in considerazione e integrato poi nella vera e propria ideazione del servizio. Vedo che alcuni di voi hanno ancora problemi di audio di ciò mi dispiace ma andrei avanti se Patrizia non mi notifica altrimenti. Gli strumenti che si possono utilizzare nella fase di ideazione e prototipazione variano invece molto a seconda che si stia progettando o riprogettando un servizio o se il progetto invece è ristretto soltanto alla ri- o progettazione di on-touch point perché alcuni degli strumenti utilizzati in questa fase servono effettivamente a strutturare la service blueprint ovvero la mappatura di come viene erogato il servizio mentre altri vanno più nel dettaglio delle interfacce e dei flussi di interazione e ad ogni modo questi strumenti in questa fase devono aiutare a ideare e a concettualizzare la soluzione proposta con un livello di dettaglio che risulti tangibile al punto necessario per essere comunicato poi a chi si occuperà della fase di realizzazione spesso alcune figure coincidono ma non è sempre così quindi nella fase di realizzazione possiamo considerare che bisogna progettare e sviluppare la vera e propria interfaccia di fruizione con il servizio quindi in questa fase è utile sempre adottare il principio del riuso diciamo quindi rifarsi a librerie template e modelli standard basati appunto su componenti open source per non reinventare la ruota e anche avere un vantaggio nel rispetto all'ottenere soluzioni che siano accessibili e usabili e anche con uno stile già coerente e consistente con altri touch point di interazione con la pubblica amministrazione gli strumenti per la progettazione e lo sviluppo dell'interfaccia sono risorse operative che sostanzialmente servono ad assemblare progettare e sviluppare la vera e propria interfaccia grafica e il relativo codice questi strumenti semplificano la realizzazione dell'interfaccia perché oltre ad essere immediati e pronti all'uso si rifanno alle migliori pratiche esistenti quindi ciò nonostante questi strumenti in questa fase del processo progettuale devono anche essere usati in maniera flessibile e laddove modificati o migliorati è auspicabile che vengano anche messi a riuso l'ultima fase che in verità è la più importante è la fase di validazione ovvero quella in cui si valutano i risultati raggiunti e si mette in campo una strategia per monitorare la soluzione nel tempo per laddove ci fossero diciamo i presupposti andare poi a iterare a migliorare nel tempo quindi l'obiettivo di questa fase che si estende ben oltre la fine del progetto è valutare quanto effettivamente un sito un servizio digitale risponde in maniera adeguata ai bisogni degli utenti quindi non solo valutando l'adesione a quanto previsto dalle normative dedicate rispetto all'usabilità e accessibilità ma anche misurare quanto il progetto e il miglioramento del servizio hanno cambiato l'effettivo utilizzo ha aumentato l'utilizzo del servizio digitale da parte del cittadino quindi in questo modo solo monitorando poi nel tempo gli accessi e quant'altro relativi al touch point digitale si possono identificare eventuali aree da evolvere e da ottimizzare in futuro proprio per il principio del miglioramento continuo in questa fase gli strumenti di valutazione possono variare sono molto eterogenee a seconda del tipo di attività di validazione quindi ci sono sia piattaforme per l'analisi di dati in maniera quantitativa poi anche nel tempo sia comunque strumenti a supporto del proprio testing con gli utenti secondo dei protocolli standard consolidati anche a livello internazionale che aiutano a strutturare una valutazione ecco tornando a noi perché vi stiamo spiegando queste fasi del processo progettuale non ci aspettiamo io perlomeno non mi aspetto che adesso riusciate ad assorbire così tante informazioni ma il messaggio che volevamo far passare è che grazie a questa nuova struttura che è anche rispecchiata nel nuovo sito di Designers Italia sarà possibile per voi orientarli in tutta una serie di modi nell'utilizzo dei kit e degli strumenti una prima riflessione è quella sulle competenze che abbiamo visto insieme nella puntata passata quindi una volta capite le fasi del processo strutturate le fasi del processo e messe a sistema con le competenze da coinvolgere questo è un primo modo di orientarsi e capire come organizzare un processo di digitalizzazione del servizio pubblico al cittadino ad esempio questo perché? perché lo scopo di Designers Italia è sia di diffondere la cultura progettuale e lo stiamo cercando di fare ovviamente a livello teorico sia di diciamo informare riguardo alle competenze che vanno e sarebbe auspicabile coinvolgere in questo tipo di progetti sia effettivamente il nostro scopo principale è di mettere a disposizione vere e proprie risorse e strumenti pratici operativi a supporto delle diverse fasi del processo progettuale negli ultimi mesi cioè negli ultimi sì da quando abbiamo diciamo ricominciato a lavorare sul progetto abbiamo più di 1800 kit consultati al mese e siamo qui oggi per scusate cambiate la dimensione della presentazione del pdf sulla condivisione non so se è solo per me ecco qua quindi siamo qui oggi per presentarvi la nuova sezione kit del sito di Designers Italia quindi le 5 macrofasi vengono effettivamente rispecchiate in questa sezione che adesso andrò a condividere direttamente a schermo con voi si dovrebbe vedere adesso immagino un recall una rinfrescata di che cosa si tratta e poter poi visualizzare i kit che sono a disposizione per ciascuna fase prendiamo ad esempio i kit della fase del comprendere che sono quelli che sono stati rivisti in maniera diciamo più più predominante ok e possiamo vedere subito il nostro nuovo kit che presentiamo oggi che riguarda i questionari online oltre a presentare questo nuovo kit vorrei farvi vedere come abbiamo organizzato le informazioni nella pagina per avere un vero e proprio diciamo wizard o tool a supporto non solo dello svolgimento dell'attività ma capire cosa bisogna fare quindi per ciascun kit diamo indicazioni sulle attività da svolgere ad esempio per il kit questionario online abbiamo ideato questo kit che serve a aiutare a strutturare appunto un'indagine quantiqualitativa e somministrarla e poi analizzare i dati le attività da svolgere sono in primis quella di pianificare l'indagine all'interno di questa attività mettiamo a disposizione in primis il piano di ricerca per capire il focus e gli obiettivi dell'indagine che si andrà a svolgere e in secondo luogo mettiamo a disposizione un file che aiuta a strutturare il questionario possiamo vedere la risorsa nel dettaglio e capire perché questi strumenti non sono dei banali file Word o Excel ma dei veri e propri modelli di riferimento con questi strumenti messi in condivisione possono essere sia scaricati in PDF o in altri formati sia direttamente copiati all'interno delle proprie cartelle per essere modificati quindi si prestano come un file precompilato che attraverso delle istruzioni e poi dei campi fatti per essere riempiti dove potete vedere sottolineato in giallo guida l'utente nel strutturare le vere e proprie domande del questionario allora andiamo un attimo sull'indice intanto vi giro l'url se ve lo volete vedere ok quindi cerchiamo di dare a voi utenti diciamo una struttura di massima che aiuta ad affrontare quelle tematiche che sicuramente ricorrono in un progetto di digitalizzazione dei servizi pubblici come sapete o come forse già sapete in ogni ricerca bisogna andare sempre dal più generale al più specifico quindi di fatto abbiamo suddiviso il questionario in tre tematiche la percezione dell'ambito di servizio in generale l'esperienza d'utilizzo del servizio pubblico per poi andare a dettagliare le domande sull'interazione desiderata con il servizio digitale quindi questi strumenti servono proprio come uno spunto per mettere in atto tutte le nozioni teoriche di ricerca che invece sono a disposizione poi sulle guide pratiche di Designers Italia tornando alla pagina del kit questionario tornando alla pagina sì possiamo vedere che le seconde tipologie di attività dopo la pianificazione dell'indagine quindi sotto riguardano la sintesi l'analisi e la sintesi dei risultati della ricerca in questi box trovate sempre gli strumenti a supporto in questo caso abbiamo messo a disposizione un template di slide per presentare appunto quindi possiamo andare alla risorsa per presentare appunto questa tipologia di dati che possono essere raccolti con un questionario online quindi come ho detto prima delle informazioni quanti qualitative questo template anch'esso può essere scaricato o copiato per essere customizzato dagli utenti per appunto essere utilizzato nei loro progetti quindi da voi speriamo la parte più interessante di questo strumento sono sicuramente gli spunti delle visualizzazioni che possono essere estrapolate dai dati quanti qualitativi cerchiamo anche di mettere a disposizione dei suggerimenti su come utilizzare al meglio i diversi grafici a seconda delle diverse evidenze e dei diversi dati che si vogliono rappresentare possiamo farne vedere un pochino Daniele e poi direi di passare al prossimo kit perfetto quindi il nuovo kit di questionario online vi faremo poi vedere come è stato utilizzato in maniera pragmatica da noi di Designers Italia nei prossimi cinque minuti passiamo adesso invece al kit di interviste utenti e stakeholder quindi nella fase del comprendere eccoci qui penso questo kit in particolare lo volevo presentare si rifà molto a quello che c'era precedentemente ma sicuramente è stato sicuramente migliorato in ottica di utilizzo dal tipo di target e è un ottimo esempio per vedere come all'interno della pagina kit in cui spieghiamo a che cosa serve e quindi qual è lo scopo dell'utilizzo di questo kit si vedono le diverse attività che vanno svolte la pianificazione delle interviste la preparazione del protocollo da seguire e in ultimo la rielaborazione delle informazioni raccolte anche qui all'interno adesso Daniele ci farà vedere velocemente che ci sono tutta una serie di strumenti a supporto in particolare volevo farvi vedere uno strumento molto interessante che riguarda l'analisi dei risultati andiamo giù ovvero la tabella di analisi dei risultati possiamo aprire velocemente la risorsa che trovo molto interessante per come è strutturata anche questo strumento può essere scaricato o copiato per essere modificato dagli utenti e come avete visto anche negli altri consiste in un primo foglio di istruzioni un paio di fogli che fungono da indice per la lettura di tutto il documento ma soprattutto i fogli di evidenze delle interviste e di analisi dei risultati questi fogli sembrano semplici fogli ma sono organizzati in modo da consentire all'utente di rielaborare i dati da una visione verticale su certi diciamo suddivisa per partecipanti a una visione trasversale che consente poi la definizione di evidenze e approfondimenti riguardanti tutto il contesto e tutto tutto il tema delle interviste quindi lo scopo di questo strumento è passare da una visione verticale sui diversi partecipanti fino poi a mettere insieme analizzare e infine sintetizzare in maniera trasversale i risultati della ricerca con gli utenti o anche con altri stakeholder ma prima di tediarvi troppo con i vari kit associati magari alcuni di voi si stanno proprio chiedendo ma che cosa vuol dire fare ricerca in questo contesto quindi passerei direttamente a parte a togliere l'onere a Daniele di condividere lo schermo continuerei invece sulle slide per presentarvi il caso applicato di oggi stiamo per forse vedere le slide immagino puoi condividere anche tu direttamente io l'ho staccato scusate ma non mi sono un attimo persa dov'è il file da condividere ok allora stiamo visualizzando ok perfetto grazie adesso sono apparse grazie mille ok quindi andiamo avanti con il caso studio appunto sul comprendere il contesto d'uso del servizio vi spiegherò brevemente in maniera pragmatica il processo di ricerca prima un'introduzione generale cosa vuol dire fare ricerca ricerca è un termine che poi in verità include sempre anche l'analisi e che parte dalla definizione degli obiettivi e del focus e delle tematiche che si vogliono trattare e comprendere meglio e quindi trattare nella ricerca un momento cruciale di scelta delle metodologie di ricerca adatte allo scopo del questionario e poi ovviamente lo svolgimento l'analisi e la sintesi dei risultati in particolare il caso che sto per raccontarvi riguarda due stream di ricerca due flussi di ricerca che abbiamo effettuato proprio per il progetto designers italia un esempio di ricerca qualitativa primaria ovvero le interviste e quantitativa primaria ovvero i questionari ma cosa vuol dire qualitativa quantitativa primaria e secondaria giusto per essere sicuri che tutti lo sappiano anche se probabilmente molti di voi già lo sanno quando parliamo di ricerca qualitativa parliamo ovviamente di un certo tipo di informazioni che non possono facilmente essere quantificabili e che non sono rappresentative dell'esistenza di un certo fenomeno ma nonostante ciò danno diciamo spunti molto rilevanti interessanti sul punto di vista delle persone per quanto riguarda invece la ricerca quantitativa sappiamo tutti bene che riguarda la raccolta di dati più o meno misurabili quando invece parliamo di ricerca primaria e secondaria parliamo di quanto si è distanti cioè come si cerca di raccogliere le informazioni la ricerca primaria consiste nel coinvolgimento diretto di utenti e o stakeholder che danno evidenza o comunque informazioni sul loro modo di esperire il contesto mentre la ricerca secondaria è tutta quella che riguarda diciamo le tecniche di ricerca documentale più sui trend piuttosto che sui casi studio quindi oggi vi racconteremo appunto che abbiamo fatto delle interviste del fatto che abbiamo fatto delle interviste sia stakeholder che utenti utilizzando appunto il kit interviste utenti e stakeholder per comprendere meglio il punto di vista degli stakeholder coinvolti nel nostro stesso progetto e abbiamo anche fatto poi un questionario distribuito per la community di Designers Italia sempre tramite i nostri kit quindi abbiamo iniziato cercando di capire chi è la nostra community in primis e per capire ciò li abbiamo raggiunti nel posto dove loro ci seguono ovvero la community online questo questionario community ha rappresentato per noi un diciamo un modo di in primis capire chi è che ci stava ascoltando quindi abbiamo definito un piano di distribuzione attraverso i canali disponibili poi abbiamo monitorato le reazioni della community e quando abbiamo raggiunto un livello soddisfacente di risultati abbiamo deciso di chiudere la survey analizzare i dati ed elaborare i risultati per migliorare il nostro rapporto con la nostra community quindi abbiamo usato il piano di ricerca e il questionario online per definire lo scopo il focus e gli argomenti principali da trattare nella survey community che era ovviamente anche la percezione di Designers Italia l'utilizzo dei canali che mettiamo a disposizione e l'esperienza d'uso delle nostre risorse kit dovevamo però pianificare anche una strategia di distribuzione del questionario e come menzionavo prima abbiamo deciso di raggiungere gli utenti nel posto in cui loro ci seguivano ovvero su Slack e su Forum Italia l'ho detto bene sì quindi abbiamo poi utilizzato uno strumento online per riportare le varie domande del questionario e distribuire a tutti la survey quindi quello che mi raccomando è come abbiamo fatto noi se dovete diciamo fare una survey online un'indagine online cercate di considerare qual è la differenza tra usare dei canali aperti dove chiunque potrebbe rispondere e inficiare la validità dei dati e canali chiusi per poter invece preselezionare i partecipanti vi consiglio anche di verificare vi consiglio caldamente di verificare che l'azione sia lecita rispetto ai termini e le condizioni d'uso del canale assicurarsi che in questo procedimento si raccolga il consenso alla raccolta dei dati e si dia diciamo la possibilità di leggere l'informativa di come verranno trattati e ovviamente cercare di capire se ci sono i bacini d'utenza che stiamo cercando di raggiungere quindi analizzare quanti utenti attivi ci sono o comunque partecipi ci sono su ciascun canale questo è quello che abbiamo cercato di fare noi vi consiglio anche di cercare di monitorare quindi darvi una timeline delle diverse diciamo attività relative alla prima distribuzione ad una secondo rilancio della survey e sicuramente definire anche quando sarà il momento giusto e appropriato per chiudere la raccolta delle informazioni per quanto riguarda l'analisi e la rielaborazione dei dati vi faccio vedere come l'abbiamo svolta noi per sottolineare un paio di cose che ritengo rilevanti anche per voi quindi abbiamo effettuato l'analisi di dati in maniera quantiqualitativa innanzitutto ci siamo focalizzati sul capire i dati più anagrafici e i dati più relativi ai profili per capire chi è che fa parte della nostra community ad esempio l'età e il genere piuttosto che l'occupazione incrociando anche le risposte a diverse domande per estrapolare informazioni sempre più raffinate rispetto al nostro target d'utenza poi siamo abbiamo iniziato a capire quali fossero ci siamo focalizzati sul estrapolare dati relativi ai comportamenti dei nostri utenti della community online e soprattutto anche capire la loro esperienza di fruizione e la loro soddisfazione rispetto all'utilizzo dei touch point e canali messi a disposizione non in ultimo abbiamo cercato di comprendere la parte più relativa alla percezione del brand designers italia e questo ovviamente è risultato in dei dati più qualitativi che comunque potevano essere messi a sistema in una visualizzazione quantitativa quantitativa come vedete in questo esempio quindi il mio suggerimento è una volta che si fa una survey è un'ottima occasione per reclutare anche partecipanti per delle interviste più approfondite e questo è proprio quello che abbiamo cercato di fare con designers italia quindi cercare di agganciare attraverso la survey quei super users che avevano voglia di affrontare con noi dei temi più in dettaglio abbiamo perciò strutturato i vari protocolli necessari a svolgere le interviste utenti iniziando sempre ad identificare chi fosse il panel quindi raccogliendo le adesioni raccolte nella survey analizzando questi profili e di conseguenza capendo cosa fosse diciamo appropriato chiedere a questo tipo di target e quali tipi di risposte potevamo aspettarci ciò ciò ha aiutato ovviamente a scrivere il protocollo e poi ci siamo occupati di categorizzare e raggruppare le informazioni per identificare i temi cruciali per il miglioramento di designers italia la scelta dei partecipanti si svolge sempre attraverso un questionario di reclutamento che nel nostro caso avevamo agganciato in coda all'indagine e al questionario online in questa fase di reclutamento è molto importante evidenziare quali sono i criteri e capire qual è la strategia di ingaggio cioè dare una buona motivazione ai partecipanti per prendere parte alle interviste spesso questa motivazione non risiede diciamo in una compensazione ma piuttosto nella partecipazione e nel far sentire l'utente ascoltato questa è stata un po' la strategia che abbiamo adottato per trovare una varietà di figure e di competenze che potessero darci delle informazioni del loro vissuto della loro esperienza personale nell'ambito pubblico nell'ambito della progettazione e soprattutto con le risorse di Designers Italia poi abbiamo programmato questi incontri utilizzando un tool online per consentire l'organizzazione del calendario degli eventi che è un tema importantissimo per gestire questo tipo di attività e poi abbiamo contattato i vari partecipanti che si erano dati disponibili ad essere intervistati nelle mail di contatto ai partecipanti è stato importantissimo in primis stabilire l'importanza della loro partecipazione a questa iniziativa e anche ovviamente la durata e lo scopo più informazioni si danno al partecipante più lo si invoglia effettivamente ad acconsentire a partecipare poi abbiamo condotto le interviste usando appunto il nostro stesso kit in particolare usando la guida alla conduzione all'intervista strutturata perché con questo tipo di utenti che diciamo possono essere anche di tipologia molto diversa è importante avere un protocollo che sia ben strutturato quindi in primis abbiamo raccolto il consenso al trattamento dei dati e poi siamo passati all'utilizzo del protocollo della guida alla conduzione per affrontare tutti gli argomenti coinvolti nella survey sempre partendo dai temi più ampi ovvero dal rapporto con la progettazione con il pubblico e per finire nei temi più specifici ovvero l'esperienza di utilizzo degli strumenti designers Italia e nel contempo abbiamo preso note sempre sul protocollo per poi analizzare in maniera strutturata le informazioni raccolte le informazioni raccolte sono state categorizzate in diversi modi questi sono soltanto degli esempi che potete utilizzare anche voi di solito sono applicabili più o meno a qualsiasi ricerca si possono definire diciamo le informazioni categorizzarle per ambiti di criticità e opportunità oppure si possono identificare dei temi emergenzi che vadano in maniera trasversale ai diversi temi che si vanno ad affrontare in particolare con designers Italia abbiamo scoperto quali sono i temi più emergenti e di cui ci stiamo poi occupando già da subito direi adesso anche qui con voi ora oltre alle interviste con gli utenti si possono effettuare le interviste con gli stakeholder chi sono gli stakeholder gli stakeholder sono quegli attori che sono coinvolti nel progetto nel senso che hanno un'influenza o comunque vengono impattati direttamente da quello che è la soluzione che verrà proposta molto spesso vengono intesi come attori interni infatti anche lato nostro abbiamo cercato di coinvolgere tutte quelle figure che in passato e in futuro avranno a che fare col progetto designers Italia in questo caso abbiamo usato invece una guida alla conduzione dell'intervista semistrutturata con questo tipo di figure che comunque hanno già una conoscenza diciamo più avanzata dell'ambito è bene ingaggiare in delle conversazioni meno formali e pedisseque e intavolare piuttosto uno scambio di opinioni strutturato semistrutturato ma più informale quindi facendo delle premesse sul contesto in cui si rivolge il progetto e poi utilizzando invece la guida per essere sicuri di trattare tutti i temi di alto livello che vanno discussi quindi il suggerimento è con gli stakeholder di non avere troppe domande strutturate ma piuttosto appunto degli spunti di riflessione che vadano a generare una conversazione cosa abbiamo imparato ma già lo sapevamo non volevo soltanto esserne sicuri e cos'è che voglio dire a voi la ricerca consente di comunicare lo stato dell'arte di identificare degli ambiti di interesse di definire delle azioni strategiche e informare la fase di progettazione quindi la ricerca è importantissima per evitare di reinventare la ruota e ancor peggio magari diciamo prendere decisioni o fare errori che sono già palesemente in atto è un po' come scoprire l'acqua calda ogni volta ma sicuramente è meglio una ricerca che non scopre niente di nuovo piuttosto che non averla fatta lo scopo della ricerca nell'ambito della progettazione non è quello di sempre portare qualcosa di nuovo fenomenale e stravagante ma piuttosto di continuamente valutare se la strada che si sta prendendo è quella giusta e imparare da quello che c'è già dalle esperienze di chi già le ha fatte per progettare in maniera informata e consapevole di cosa c'è fuori quindi con la mia parte ho finito mi spiace se ci sono stati un po' di problemi di audio e di video e spero di essere stata comunque sufficientemente chiara e ovviamente tutto può essere approfondito sul sito di Designers Italia ti porrei Ilaria una domanda che è arrivata per te da Marco Spasiano tra le piattaforme abilitanti c'è Noi PA che a mio avviso dovrebbe essere un software a riuso mentre mancano per la PA o le comunicazioni da inviare alla piattaforma di certificazione dei crediti PCC potresti dare un chiarimento in merito non mi occuperò oggi io in questa sede di dare un chiarimento perché invece nelle prossime nei prossimi interventi si tratterà più nello specifico di questi temi con i colleghi di Developers Italia penso che sia un'ottima domanda da porre a loro nei prossimi incontri perché è più calzante diciamo il loro ambito ok allora se non ci sono ulteriori domande possiamo avere l'url ognuno perché continuate a non vedere io insomma adesso si vedono le slide quindi se non ci sono ulteriori domande io farei adesso la pausa prevista di 10 minuti e ci ritroviamo qui alle 15 e 29 a Daniele Tabellini che come vedete ha caricato la sua presentazione Daniele ti chiedo di collegarti ok ti vediamo prova a parlare mi sentite? mi sentite si ti sentiamo bene buona comune grazie un secondo chiudo la porta allora voi dovreste vedere il mio schermo vediamo se un secondo che lancio la presentazione e verifico se ok mi confermate solo di vedere tutto io non vi leggo ovviamente quindi Patrizia per favore una conferma vocale perché condivisione non leggo la scelta si vediamo interfaccia utente ideare prototipare progettare e sviluppare usando i nostri kit ok perfetto grazie mille allora buonasera mi chiamo Daniele Tabellini mi occupo di interfaccia utente e esperienza utente questi due termini abbreviati li leggete un po' dovunque abbreviati con una U e una I user interface interfaccia utente con una U e una X user experience esperienza utente e quello che vi presento oggi sono due mini lecture due mini racconti sull'interfaccia utente nella prima parte vedremo le risorse a disposizione per la fase di progettare l'interfaccia utente e la fase di e la fase di realizzare l'interfaccia utente nel sito Designers Italia e nella seconda parte vi racconterò dei casi di applicazione dei casi studio finiremo con un piccolo un piccolo appendice sul piano triennale per lasciarvi delle slide con degli spunti utili allora questa slide la sto usando da un paio di presentazioni perché mi sembra renda bene un concetto avete presente quando a Natale regaliamo ai nostri figli quei kit della Lego enormi con un sacco di piccoli pezzi si fa presto a dire kit anche quelli sono kit però poi a montarli è sempre complesso quello che proverò a fare nella prossima mezz'ora nei prossimi 40 minuti è un po' essere il vostro maestro Yoda all'interno di alcuni di questi kit allora cominciamo dalle parole le parole sono molto importanti credo che usarle non a caso e usarle bene ci aiuti anche a migliorare il progetto che mettiamo in campo voi dovreste aver ben presente che cosa voglia dire open source sicuramente o assorgente aperto assorgente si intende di solito di codice quindi di un software il codice che fa funzionare una macchina un software che poi in definitiva è un testo fondamentalmente aperto con una serie di istruzioni che la macchina esegue quello sopra open design è un po' meno comune ma è esattamente quello che mette a disposizione per esempio Resigners Italia quindi risorse per fare progetti per fare progetti aperti e risorse stesse aperte aperte nello stesso modo in cui si intende open per il codice sorgente quindi con gli strumenti stessi con possibilità di essere modificati con licenze d'uso eccetera eccetera per ottenere progetti fondamentalmente sempre in continua possibilità di essere migliorati quindi aperti anche nel risultato una piccola slide perché stamattina non a breve ma proprio stamattina è andato online nella versione del sito come vedete dall'URL con queste piccole migliorie fatte ai kit e tra le migliorie di cui andiamo più fieri c'è anche quella di aver finalmente aggiunto in maniera esplicita quali sono le licenze d'uso di questi strumenti a disposizione di designer sitali non è detto siano le scelte non c'è un diciamo che ci sono anzi le leggiamo una per uno diciamo che ci sono delle direttive delle norme che obbligano alcune scelte altre sono state scelte nostre in realtà allora tutti quelli che sono template strumenti a disposizione che riguardano documentazione cioè che permettono di produrre documentazione come potrebbe essere per esempio una liberatoria della privacy un altro documento istituzionale come da norma hanno la licenza cc0 cioè creative common 0 che equivale al pubblico dominio fondamentalmente quindi sono completamente aperte risabili modificabili eccetera tutte le risorse e gli strumenti di progettazione quindi i modelli di presentazione come quello che vi faceva vedere i live i fogli di lavoro i piani per le interviste eccetera eccetera hanno una licenza creative commons by sa 4.0 che è una scelta molto particolare di avere sa perché quella suggerita normalmente è by quindi citare la fonte by vuol dire chi l'ha fatto però sa anche perché ci aspettiamo che chi riusa queste soluzioni per riproporle o per usarle fondamentalmente le condivide nello stesso modo share a like sarebbe sa per lasciarle per il bene di tutti come strumenti di condivisione e poi è la licenza migliore ci dicono i nostri esperti di licenze open source per vedere di crescere il tempo di avere molti contributi esterni a far crescere questi strumenti infine bsd3 che è una licenza compatibile con quelle consigliate da developers italia che è la licenza che storicamente è per chi sa cosa sono ma lo vediamo tra poco per chi non lo sa che è in tutti i software prodotti da designers italia è una licenza completamente aperta anche questo che permette è una delle licenze migliori dell'open source ed è applicata al sito web ma è applicata anche ai kit di progettazione interfaccia e di sviluppo interfaccia e di prototipazione che vi farò vedere nei slide successivi qui in basso qui in basso a destra c'è un link come scegliere le licenze che apre una pagina vediamo se si apre che è una pagina un readme con le indicazioni di developers italia per scegliere le licenze una pagina molto utile secondo me anche per per chi di voi magari ha dei dubbi su quale licenza è consigliata o quale licenza usare sia su software ma anche su documenti normativi leggi documentazione eccetera eccetera queste slide che vi faccio vedere in pratica contengono sempre il formato o scusate nel formato slide di solito sulla destra ci sono sempre dei link perché penso che siano strumenti cioè mi piace pensare che rimangano come strumenti utili di navigazione indice per ritrovare contenuti è chiaro che questi contenuti li potete trovare anche partendo dai siti web allora vi faccio vedere nei prossimi dieci minuti di questa prima parte che dura un quarto d'ora vi faccio vedere tre kit fondamentalmente e tre strumenti un po' di più qualche strumento il primo kit che vi faccio vedere è quello per prototipare l'interfaccia quindi il kit che serve a progettare l'esperienza dell'utente del servizio realizzando un prototipo di interfaccia ovviamente siamo dopo un bel po' dopo se Ilaria ha raccontato l'inizio quindi la ricerca poi ci sono un po' di fasi di definizione di di chi sono gli utenti del servizio di quali sono gli scenari eccetera finché nella fase progettare che è sempre la terza fase di queste cinque in realtà l'ultimo kit il penultimo kit a disposizione è quello di prototipazione un kit che contiene come nel caso che avete già visto lo apro così lo vedete un kit che contiene vado piano perché immagino ci sia un po' di delay allora è un kit che contiene una serie di strumenti e contiene una serie di riferimenti per fare la prototipazione prototipazione significa creare dei prototipi di come funzionerà l'interfaccia il touch point l'interfaccia con il servizio in progettazione che sia un sito web che sia un'applicazione mobile che sia un chiosco la prototipazione può essere di tanti tipi ovviamente può essere anche una prototipazione su carta matite e penne fai una simulazione di come potrebbe essere e condividi intorno a un tavolo con delle persone cerchi di capire se lo usano bene quella simulazione su carta scrabocchiata con le penne quella è una prototipazione di bassissima qualità o come si dice in inglese in gergo tecnico lo fai lo trattino fi lo vedrete scritto in giro per il web quello che mettiamo a disposizione noi oltre a in queste pagine trovate sempre sulla destra anche i kit correlati e il link alle linee guida quello che qui si definisce come attività per prototipare sono due cose sono definire i flussi di interazione le due attività da fare per prototipare quindi qual è il percorso degli utenti quali sono le cose che incontrano le funzionalità di cui hanno bisogno e poi la realizzazione vera e propria di un prototipo a bassa fedeltà o low fee allora vi faccio vedere la costruzione dei flussi interazione la visualizzazione dei flussi la visualizzazione dei flussi è semplicemente una piccola risorsa che aiuta a fare una visualizzazione classica tipo concept map quello che vi faccio vedere mi preme farvi vedere è la costruzione dei flussi di interazione che è uno strumento sempre in google fogli come ogni strumento che trovate sul sito di designer se potete usarlo copiandolo nel vostro account google eventualmente ma potete ancora meglio scaricarlo scaricarlo magari in formato aperto come open office oppure anche addirittura word o excel basta fare file scarica allora questo è uno strumento praticamente identico a quello che vi ha fatto vedere Ilaria in cui nel primo foglio il primo tab perché è familiare con un approccio tipo fogli tipo excel tipo spreadsheet nel primo foglio ci sono le istruzioni le cose da compiere e nel secondo c'è lo strumento flusso template che può essere duplicato n volte per tutti i flussi che devi prototipare è uno strumento abbastanza semplice a parte definire il nome e il nome dell'azione da compiere e qual è la persona che lo sta compiendo magari è il sindaco o è un funzionario o è il cittadino sotto ci sono una serie di flussi orizzontali compito 1 compito 2 compito 3 ve lo faccio vedere in un esempio che mettiamo a disposizione che è relativo se non ricordo male al sito di un comune al modello comuni che vedremo tra poco vediamo se si apre eccolo qua si è aperto allora siamo in ambito servizi quella modalità servizi quella mobilità la persona è Daniela che vedremo da un'altra parte deve chiedere un permesso ZTL per la propria auto qui c'è esattamente il template che vedevamo prima però riempito delle serie di azioni che deve compiere l'utente c'è una colonna qui è stata usata per definire dove siamo nell'area pubblica o nell'home page e poi ci sono le azioni che compre per cercare informazioni o per richiedere la prestazione è interessante ed è utilissimo per mettere in evidenza che cosa le funzioni di cui si ha bisogno poi in fase di prototipazione e progettazione vera e ancora di più le possibili criticità ed errori questo strumento dei flussi anche se il rosso fa paura la riga rossa di solito è la più importante da un buon designer vi dovrebbe raccontare che le criticità sono esattamente il punto dove mettere il dito il dito si mette sempre nella piaga nel design perché se ci sono criticità è esattamente lì dove puoi fare innovazione se volete innovare un vostro servizio risolvete alcune delle sue delle sue criticità qualunque siano e già state facendo innovazione fondamentalmente c'è la possibilità di avere dei flussi alternativi quindi non solo il flusso completo ma qui per esempio si sta indagando anche il flusso di un nuovo utente alt nuovo utente che è il flusso di un nuovo utente che arriva da un motore di ricerca per esempio subito sotto che ha sicuramente criticità contenuti funzionalità e vede cose in maniera diversa in fondo c'è per esempio un ultimo flusso alternativo studiato di un utente molto esperto che arriva sul servizio già sapendo cosa vuole per far che cosa per studiare se ha criticità dovute al fatto che si pensa solo a utenti novizi e quindi che è importantissimo l'utente novizio però è importante in fase di in fase di primo accesso negli accessi successivi è bene soddisfare lo strumento poi l'altro strumento che c'è realizza un prototipo a bassa fedeltà e l'altra attività vengono fornite due cose un wireframe kit e un esercizio wireframe di carta vi faccio vedere il wireframe kit ve lo faccio vedere direttamente qua poi dopo vi faccio vedere dove l'ho scaricato e anche vi racconto dove lo sto facendo vedere però il wireframe kit è un piccolo kit da usare in tutti quei software da designer ma non solo per fare prototipazione digitale che serve a fare prototipi in bassa qualità ma anche in media qualità a ottenere a ottenere dei layout dei mockup che l'unica differenza di solito che hanno con i mockup definitivi quindi con la grafica vera e propria del servizio è che sono senza colori senza decorazioni contengono molti testi finti e e sono molto utili però a fare testing quindi a testare con utenti e portatore di interesse questo kit che cos'è? non è altro che una libreria di simboli quindi in questi programmi come Sketch Figma o Adobe XD è possibile avere direttamente i componenti per fare un tasto per fare un bottone ci sono già layout e pezzi di interfaccia in realtà preconfezionata e ci sono anche come vedete qua per esempio pezzi interi di piattaforme prototipate già in wireframe per poterle mettere nei flussi dei propri servizi questo è il pezzo di speed per esempio questa risorsa si ottiene scaricandola da da GitHub cliccando c'è sul sito sulla risorsa wireframe kit si finisce qua GitHub per chi di voi frequenta sviluppatori o è uno sviluppatore o ha a che fare con sviluppatori è la piattaforma è una specie di disco online in cloud dove si sviluppa software fondamentalmente in questa repository repository o cassetto è il modo in cui si chiama una cartella su GitHub è presente la possibilità di scaricare basta premere qua download il wireframe kit e di avere questo formato .sketch che si può aprire direttamente in sketch che è un programma di prototipazione o in Figma e Adobe XD allora vediamo torno alla presentazione vediamo se ritorna qui nella presentazione avete il link anche se è un po' ridondante nel senso che è molto semplice basta andare nella nuova pagina kit fase progettare prototipazione scusatemi ero qua come vedete vi stavo dicendo media qualità più che bassa perché in realtà il sito ha tutto ha le dimensioni i componenti ha già quasi la griglia responsive nel senso che funziona sia su mobile che su desktop quindi non è un bassa qualità è un prototipo a media qualità di solito o mid fee come si dice queste frecce sono perché è possibile renderlo interattivo usando strumenti come InVision oppure usando strumenti come Figma e quindi creare un piccolo prototipo navigabile su cui volendo puoi anche cominciare a fare test di usabilità per esempio e le altre due strumenti che vi presento leggermente più velocemente però approfondiamo poi nei casi studio sono il kit per progettare l'interfaccia che è esattamente lo stesso approccio del kit di wireframe quindi un file che ti scarichi e usi come libreria di componenti in programmi come Sketch o Figma o Adobe XD stiamo anche lavorando per renderlo ancora di più interoperabile come si dice per usare un termine di mona tra questi tre software nei prossimi mesi però diciamo che funziona già abbastanza ed è una libreria di componenti quindi hai tutti i componenti hai pezzi di layout già validati sul campo è molto ampio il kit UI è veramente ampio non lo apro semplicemente per non tediarvi poi se volete ve lo faccio vedere in più ma fate prima scaricarlo da su allora aspettate vado sopra sviluppare l'interfaccia realizza siti web e servizi digitali in semplicità grazie a codice componenti open source perdo due minuti in più e poi chiudiamo questa prima fase e passo alla fase di casi studio e approfondisco anche questi che vi ho raccontato questo è il kit che serve a sviluppare l'interfaccia prototipata o progettata con i kit di wireframe e di progettazione dell'interfaccia sviluppare vuol dire proprio scrivere il codice di quella che si chiama la parte front end del servizio digitale del software digitale allora fondamentalmente nel kit che vorrei aprire per farvelo vedere ci sono due risorse per sviluppare l'interfaccia front end e vi dico anche perché ve lo racconto è chiaro che io vi faccio vedere questi kit per un motivo pratico è chiaro che non tutti voi avranno a che fare con questi kit e li useranno direttamente ma se foste per esempio in una fase di rapporto con un fornitore voi dovete essere in grado di dialogare col fornitore e chiedergli di usare questi kit o chiedergli perché non lo fa magari perché ne usa alcuni migliori e sapere dove sono che a cosa servono cioè vi servono le parole per la mia esperienza anche nella mia esperienza di parlare con un fornitore di solito specialmente in ambito locale spesso si tende a evitare queste risorse pensando che siano molto complesse invece aiuterebbero anche un piccolo fornitore a sviluppare soluzioni molto più all'avanguardia di come può svilupparle partendo da zero e poi ci sono buone pratiche di riuso di scrittura del software che a volte sono saltate spesso vengono saltate allora le risorse a disposizione sono due qua dentro questo sviluppare interfazio del tuo progetto web e la parte interessante è che Bootstrap Italia che è semplicemente una libreria javascript basata su di classi di stile di classi di codice che stilizzano una pagina è basata su Bootstrap 4 che si spera nei prossimi mesi abbia anche un aggiornamento a Bootstrap 5 per chi sa di cosa parlo è una libreria di componenti che corrisponde pedissicuamente al kit UI quindi se tu prototipi una pagina con il kit di interfaccia o progetti come deve essere è molto veloce organizzarla e montarla con il kit di Bootstrap Italia in pratica che contiene anche esempi contiene un sacco di cose già fatte pagine intere i singoli componenti vi faccio vedere per esempio un componente che corrisponde esattamente a quello che vedevate nell'immagine prima il componente bottoni usando questo codice integrando la libreria Bootstrap Italia ottiene esattamente i bottoni a disposizione nel kit di interfaccia il kit React è un kit simile basato su Bootstrap che serve a sviluppare in uno dei modi ormai più contemporanei di sviluppare interfaccia web via software e utilizza Bootstrap Italia non ha ancora tutti i componenti ma sta crescendo entrambi questi kit sono su GitHub e sono aperti al contributo della community e si spera anche di dargli una bella botta in avanti come si dice in un modo un po' informale nei prossimi mesi di sviluppo vediamo la presentazione prosegue vediamo se sono in ritardo leggermente allora queste risorse più che farvele vedere basta vi vorrei raccontare come le abbiamo usate in alcuni progetti e parto da un progetto un po' come farvi vedere casa nostra fondamentalmente questo è il nuovo sito del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale faccio una parentesi su Figma e il kit UI dopo vi rispondo con calma nella fase di question and answer perché ci sono un po' di cose da dire chiudo parentesi allora il sito del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Innovazione Govita che conoscerete è un sito che abbiamo cominciato a riprogettare a settembre dell'anno scorso e che è andato online a febbraio di questo anno ed è in continua evoluzione in questo momento si sta preparando a ospitare tutto quello che sarà il lavoro di racconto del piano del PNRR quindi il progetto Italia Digitale 2026 e insomma continua a evolvere è un sito che abbiamo provato a sviluppare non solo usando i nostri strumenti ma anche andando oltre cioè cercando di sfruttarli per realizzare un caso studio fatto molto bene allora qui a destra trovate il link del sito che non apro però vi apro due cose vi apro il link allora alla repository GitHub sarebbe al cassetto su GitHub su questa piattaforma in cloud che contiene software per sviluppare software dove c'è esattamente il sito sempre in questa logica di sviluppare open source e c'è esattamente il sito vuol dire che qui c'è esattamente lo sviluppo di tutto quello che è il sito web non c'è solo il front end ma c'è anche il collegamento l'esteticizzazione il collegamento a questo CMS statico che usiamo che è dato CMS e tutto il resto e come vedete è in continuo anche evoluzione ci sono issue segnalate ci sono pure request ci sono commenti è tutto aperto e si può contribuire mi interessa raccontarvi del sito qualcosa che posso farvi vedere qua qui in basso a destra c'è leggi di più seconda parte leggi di più vi porta un articolo su Medium che forse qualcuno di voi ha letto che racconta la storia di progettazione di questo sito quindi come abbiamo usato le varie risorse che in quel momento stavano per esempio in progettazione le nuove risorse di ricerca le risorse di prototipazione come abbiamo usato il kit di UI e come ci siamo spinti a cercare di curare per esempio l'accessibilità molto di più di quanto verrebbe spontaneo sull'accessibilità vi racconto qualcosa dopo anche vediamo un attimo se si apre intanto chiudo quello che ho aperto prima eccolo qua allora su questi articoli su Medium su questo blog che teniamo per raccontare a volte dei progetti ci sono un sacco di storie mi preme farvi vedere solo un'immagine evocativa che mi servirà dopo sempre se funziona eccolo qua si vediamo se arriva sta arrivando mi preme farvi vedere vediamo se ci arriva sta andando molto piano scusatemi eccola qua l'immagine allora ok è arrivato dovrebbe essere arrivato speriamo linguaggio e content design eccola mi preme farvi vedere adesso eccola qua il pezzo da qui in poi questo articolo che è la seconda parte che trovate nel link racconta il lavoro che abbiamo fatto sull'accessibilità è un lavoro che dopo vi racconterò meglio dirò due parole in più ma che non può limitarsi alla validazione specialmente in fase di riprogettazione o progettazione di un servizio digitale è sempre bene progettarlo e realizzarlo accessibile fin dall'inizio ora dopo vi racconto meglio però su questo racconto ci sono magari un po' di input un po' di link che vi possono essere utili non è soltanto un articolo celebrativo del lavoro che abbiamo fatto anzi noi pensiamo che si possa fare molto media di non aver fatto ancora abbastanza però abbiamo cercato di raccontare in modo che fosse una risorsa questo racconto di come poter replicare il risultato raggiunto e questa tabella secondo me è significativa per quello che vi dicevo prima di solito specialmente in questo periodo di obblighi del piano triennale della dichiarazione di accessibilità si tende a pensare che la validazione sia l'unico momento che esiste cioè si valida si scrive la dichiarazione di accessibilità e si lascia lì in realtà per essere completamente accessibile per essere anche in regola con la dichiarazione di accessibilità il progetto sarebbe meglio se attenesse a queste responsabilità quindi per ogni fase analisi design sviluppo validazione uso e manutenzione ogni ruolo coinvolto nel progetto nel progetto esecutivo di realizzazione quindi redazione designer sviluppatori è sempre abbastanza responsabile diciamo anche nell'uso e manutenzione facciamo l'esempio pratico carico un video senza sottotitoli o senza trascrizione da youtube carico un'immagine e non ci sento un tesco descrittivo faccio un ordine della titolazione di pagina abbastanza casuale solo perché mi torna alla dimensione di caratteri il sito diventa inaccessibile fondamentalmente ok dopo vi dico qualcosa in più sull'accessibilità mi preme farvi vedere una cosa vediamo se l'ho già aperta dovrei averla aperta vi faccio vedere di questo sito ho qui aperto su sketch vediamo un po' dovrei averlo aperto scusate dovrebbe essere questo no scusate ma non eccolo qua il kit di UI sto cercando datemi un secondo un secondino e arrivo allora window innovazione si fa prima passare da qua eccolo qua mi preve farvi vedere il lavoro fatto sul sito di innovazione con il kit di wireframing e con il kit di interfaccia utente per farvi vedere dove un fornitore uno dei vostri fornitori o addirittura voi se avete competenze per farlo può anche arrivare volendo e il perché arrivare qui può aiutare e poi vi faccio vedere esattamente l'opposto in un caso studio dopo allora qui non sto a zoomare indietro a tornare indietro a ingrandire ma questo è praticamente un wireframe fatto con il kit di wireframe di prototipazione di come doveva essere impostata la pagina e queste etichette colorate che vedete sopra sono praticamente i nomi che ogni componente di questa pagina avrebbe assunto in fase di sviluppo nel CMS nel gestore del back office questo lavoro è stato fatto insieme a chi ha progettato i contenuti ed è stato fatto per prima cosa fondamentalmente poi è stato rivisto in fase di sviluppo e di disegno dell'interfaccia vera e propria grafica però è stato rivisto qui c'è anche un prototipo in bassa qualità che non vi faccio vedere perché ci siamo accorti che per ottenere un risultato ottimale e anche perché il kit di interfaccia utente di progettazione dell'interfaccia in realtà lo permette sarebbe stato più veloce progettare direttamente l'interfaccia lo vedete da lontano li vedete piccolini ma ci sono decine e decine di schermi sia a risoluzione mobile quindi cellulare sia a risoluzione desktop quindi desktop e di corrispondenze quindi zoom alcune per capire di cosa stiamo parlando questa credo sia l'attuale home page per esempio sì i contenuti potrebbero essere finti e non corrispondere a quelli online ovviamente anche se questi credo siano contenuti che sono andati online a un certo punto e questo prototipo non è solo un prototipo grafico è un prototipo che è stato anche anche reso interattivo quindi esiste su una piattaforma in questo caso in vision ma potrebbe essere un'altra delle tante esiste un sito web fittizio nel senso che non è stato scritto codice sono solo immagini in cui si può cliccare sui link che è stato usato poi per fare test test interni test con attori esterni ed è stato sempre aggiornato in maniera iterativa migliorandolo su questo qui per esempio vi faccio vedere il nuovo blocco è andato online qualche giorno fa qualche settimana fa ormai come primo teaser della comunicazione del PNRR quello che cerchiamo di fare sul sito innovazione è sempre un processo corretto quindi progettiamo prima le schermate e poi si passa in sviluppo a bootstrap vi faccio vedere due progetti in realtà molto più piccoli pieni di soddisfazione uguale però molto più piccoli in cui gli stessi strumenti sono usati in modo diverso il sito innovazione ovviamente poi è stato sviluppato utilizzando bootstrap Italia un'informazione che non ho dato quindi tutti gli stili grafici che vedete l'impostazione è bootstrap Italia chi di voi l'ha usato sa bene che quel kit quella risorsa per sviluppare front-end non contiene tutto quello che vedete in questo sito web perché contiene però gli atomi come si chiamano quindi i singoli pezzetti contiene ipotesi di come è fatta una card quindi una scheda una schedina di segnalazione di una news ma non è un obbligo si può modificare il lavoro che abbiamo fatto su innovazione govit è un lavoro che speriamo facciano tutti quelli che usano questi strumenti che è quello di progettare le modifiche e le migliorie in modo che nella prossima release di bootstrap Italia siano integrabili volendo se il gruppo di maintainer che userà bootstrap Italia lo migliorerà portandolo alla versione 5 e le repute interessanti quindi tutti i componenti i blocchi di questo sito che non sono nativi magari in bootstrap Italia sono stati iscritti in maniera da essere compatibili e integrati in futuro il cloud Italia è un mini sito niente di che scusate dal punto di vista del progetto dell'interfaccia niente di che invece il progetto ovviamente uno dei più ambiziosi del paese però l'ho messo qui per un motivo pratico è un mini sito che come vedete usa la stessa griglia di innovazione in pratica govit ha riciclato buona parte di tutto il lavoro fatto di frontend con bootstrap Italia e ci ha aggiunto sopra React perché gli sviluppatori hanno hanno deciso che volevano anche andare un pezzo avanti verso le buone pratiche quindi usa anche il kit React di sviluppo web però la storiella che vi voglio raccontare qui trovate ovviamente la repo la repository quindi il cassetto GitHub dove c'è tutto il codice dove il sito fa online viene proprio sviluppato sempre in ottica open source sempre con licenza BSD3 è interessante secondo me un piccolo lavoro che abbiamo fatto non tanto di interfazio utente ma di styling che ci dà anche un là ideale per produrre un piccolo kit di art direction immagini nei prossimi tempi e il lavoro fatto è questo ci siamo noi ovviamente da anni dai tempi di Piacentini del team digitale questo gruppo di cui io faccio parte da ormai otto mesi ha sempre anche negli anni precedenti ha sempre scelto di utilizzare immagini in pubblico dominio citando la fonte come nella stessa logica dell'open source quindi usare delle risorse come Asplash per trovare fotografie icone riusabili e citare le fonte come proprio valore aggiunto utilizzare strumenti aperti anche di comunicazione Cloud Italia va un passettino oltre continua a usare fotografie prese da un sito che è Asplash.com ma ce ne sono altri vi invito a cercarli nel kit di content design che c'è su di progetto di contenuti che c'è su Designers Italia ce ne sono alcuni suggeriti e allora cloud.italia.it continua a usare foto che vengono in Asplash liberamente riutilizzabili però lo fa in una maniera particolare abbiamo ci siamo posti il problema con piccoli interventi grafici quindi racchiudere non cerchi aggiungere un ombra aggiungere un filtro di colore ottenere uno stile di comunicazione di branding come si dice in ambito commerciale che fosse un po' più efficace i crediti e le immagini ci sono uguali c'è la pagina credits in fondo però le immagini sono state modificate che la loro licenza lo permette anche se la modifica è soltanto inserirle dentro forme e colori per cercare di dare una comunicazione che non appaia un po' sciatta è inutile negarlo se poi la stessa foto del workshop con i post-it gialli è usata in qualunque sito parla di service design fondamentalmente l'hai già vista 800 volte se noi cominciamo a fare siti della pubblica amministrazione tutti che usiamo la stessa foto di un splash comincia ad essere complesso questo ci dà in là a pensare che forse riusciremo anche a fare uno o due strumenti da mettere a disposizione di tutti molte volte creare comunicazione coerente non è un problema di avere un buon grafico è solo un problema di piccoli dettagli e infine l'ultimo caso studio prima di andare su una parte più interessante per voi però mi serve sempre a raccontarvi come usare questi kit in un altro modo completamente questo è un caso studio a cui tengo particolarmente allora è scritto in inglese perché il progetto ha una valenza internazionale non per l'inglesismo come di solito le risorse da developer ci sono è anche un progetto che sta assumendo un sacco di valenza in ottica futura o interoperabilità ai progetti del PNRR questo in pratica è una piccola app web che si chiama Italian Open API Validation Checker che è nata prima che io arrivassi qua post estate dell'anno scorso da un gruppo interno di developers Italia e avevo un'interfaccia molto diversa da quello che state vedendo e ve lo faccio vedere tra pochi secondi e che serve a fare una cosa ben precisa cioè a validare il codice che tu scrivi della tua API a validare vuol dire a validarlo rispetto a standard a insieme di regole per chi di voi sa cos'è un API che permettono di scriverla bene l'API tra l'altro è il concetto base che ci permetterà di far reggere tutta l'interoperabilità del futuro application protocol interface è in pratica uno spinotto una presa che serve a collegare diverse bug fondamentalmente diverse piattaforme o basi di dati diciamo un po' semplificata ma questa è una piccola app che vi faccio vedere il progetto fatto ve lo faccio vedere direttamente su sketch eccolo qua quando io sono entrato praticamente gli sviluppatori senza il contributo di nessun designer fondamentalmente avevano realizzato già l'app che funzionava che è questa e come vedete o se non lo vedete ve lo suggerisco io già utilizzavo Bootstrap Italia quindi questa libreria componenti visivi uno sviluppatore può usarla anche direttamente anche questo è un altro modo di usare questo strumento secondo me molto interessante cioè sviluppi utilizzando standard e libreria componenti ovviamente non si erano posti il problema delle linee guida di leggibilità di lunghezza di caratteri di stile della pagina di flusso dell'utente era semplicemente il motore messo lì e funzionava il lavoro che abbiamo fatto noi e io sono contento e ve lo racconto con orgoglio perché il primo lavoro che ho fatto qui dentro a settembre è stato un lavoro di flussi e usabilità e poi di progettazione di un'interfaccia che online quella che vedete non è ancora esattamente questa perché ci stiamo continuando a lavorare in maniera iterativa e quindi siamo su Sketch ma potrebbe essere Figma potrebbe essere Adobe XD potrebbe anche essere altri strumenti c'è neanche uno open source spagnolo che stanno facendo molto bello dopo ve lo racconto se volete e c'è e c'è stato tutto un lavoro di prototipazione dell'interfaccia quindi di studio di come era meglio rappresentare le cose per farle funzionare ovviamente in un codice lunghissimo segnalare qual è la riga d'errore non è banalissimo a cosa corrisponde non scena nel dettaglio vi lascio qua il link all'applicazione e alla repository di GitHub dove trovarla per chi di voi non la conoscesse è tra l'altro una risorsa utilissima perché funziona molto veloce ci sono ovviamente risorse professionali questa tra l'altro si basa su una risorsa professionale open source e ci crea un'interfaccia sopra e ci aggiunge sopra anche gli schemi di validazione delle API italiane interoperabili con l'Europa vado avanti nella presentazione spero di essere in orario credo di sì vi faccio vedere sempre casi studio non apro nessun file in questo caso però vi faccio vedere queste due slide e il motivo per cui ve le ho messe nella presentazione quindi ve le troverete a disposizione il modello per i siti web comunali che è un modello liberamente riusabile e trovabile su Designers Italia forse immagino che tutti voi che venite da un comune per ricordo le statistiche dovreste conoscerlo è un modello di progetto di come potrebbe essere progettato il sito web di un comune che stanno applicando sempre più amministrazioni tutto è iniziato con le prime prototipazioni di Cagliari il progetto no non esistono ancora altri modelli ma sono in progettazione altri modelli per ora non posso dire altro e arriveranno comunque nei prossimi tempi lo stesso PNRR da fondi per la progettazione di modelli standard un modello non è proprio una regola da applicare in toto al 100% ma è un modello di come può essere progettato poi ovviamente applicazioni possono riscostarsi quello che mi preme sottolinearvi qua qui a destra vi ho messo tutti i link diretti anche senza passare per forza dalla pagina designers italia slash modelli che è poi la prima linkata però trovate varie cose trovate la documentazione di progetto dove c'è tutto il racconto del progetto la ricerca eccetera eccetera sì sono d'accordo sul modello di forma sarebbero molto utili scusate la risposta estemporanea ma mi appaiono sullo schermo è anche interessante che diventi interattiva sono d'accordo che un modello di forma sarebbe utilissimo a tutti in realtà modellizzare forme accessibili sarebbe molto utilissimo a tutti in realtà e usabile quello che trovate sul modello comuni la parte che mi interessa sottolinearvi poi passo alle altre slide è l'architettura l'architettura è un file sempre un foglio di lavoro che non è semplicemente uno strumento da leggere ma è uno strumento da usare ne parlavo qualche settimana fa col comune di Rimini che è appena andato online e sta facendo ora una fase di rodaggio e aggiornamento loro hanno perso in pratica hanno perso hanno usato molto del loro tempo di progettazione su questo foglio su una copia di questo foglio a chiedersi se i loro contenuti a chiedersi come i loro contenuti del vecchio sito o quelli che desideravano i loro utenti interni si potevano adattare o potevano aver bisogno di altri schemi in questo progetto che ha un'architettura ben precisa quindi le verticali ben precise di contenuto amministrazione novità servizi documenti dati argomenti e poi l'area personale e qui in questo foglio trovate poi se andate avanti nei tab nei fogli sotto trovate tutti i content type tutte le tipologie di contenuto quindi che ne so la scheda persone di un comune quale attributo deve contenere questa è una risorsa non solo da leggere non solo da sapere che c'è ma è una risorsa da usare fondamentalmente perché è preziosissima per chi progetta un comune nei comuni trovate poi wireframe template hi-fi come vi ho fatto vedere ora file sketch liberamente modificabili ma trovate qui in basso vi ho messo un link particolare che non c'era fino a qualche giorno fa abbiamo aggiornato la pagina designers italia sul catalogo del riuso in questa pagina ci sono i progetti dei designers fondamentalmente collegati e utili la parte di sviluppo quindi qui in basso in questo piccolo tab risorse trovate template html repository completa per il progetto sito web per i comuni dove c'è anche il file sketch la documentazione e per la scuola nello stesso modo nel catalogo del riuso vi segnalo anche se qui non c'è il link che ovviamente ci sono già in riuso anche applicazioni complete di questo modello ci sono applicazioni che utilizzano CMS complessi tipo Cagliari che utilizza Intando ci sono applicazioni che utilizzano CMS fatte apposta ma open source ci dovrebbe essere speriamo nei prossimi nei prossimi tempi se il comune ce la concede credo di sì anche perché sarebbe un obbligo mettere a riuso ma io li vedo anche molto volenterosi di condividere la loro esperienza ci dovrebbe essere non vi dico chi ma un'applicazione a riuso che utilizza il CMS Drupal perché i siti comunali non hanno il modello è agnostico dei CMS però ovviamente partire anche con una risorsa che ha già un CMS sotto per un piccolo comune può essere molto uguale poi c'è il modello per i siti web scolastici stessi link qui ci siamo spinti oltre si sono spinti oltre chi l'ha progettato due anni fa e è stato realizzato un tema WordPress e non approfondisco trovare tutti i link per fare questi modelli ovviamente sono state usate le risorse quindi trovate anche qua il link ai wireframe ai template in alta qualità ai prototipi credo su InVision navigabili eccetera eccetera allora finisco datemi 5 minuti che finisco su vediamo un po' l'orario 4.11 sono leggermente in ritardo però questi 5 minuti sono importanti allora alcune slide di disambiguazione una accessibilità vi ho già detto delle premesse ve le ridico qua con una slide che lo racconta bene c'è dei link utili molti di voi sono nel tema dichiarazione di accessibilità tra l'altro in ritardo di mesi noi stessi il sito designers purtroppo è in ritardo perché era progettato perché è in rifacimento quest'estate la parte di accessibilità l'accessibilità adesso tutti pensano che sia solo validare perché c'è da fare la dichiarazione come vi dicevo prima è tutto qua il problema ed è un problema enorme perché se validi e basta spesso ti conviene ti trovi a dire che non sei accessibile per tantissimi motivi se invece tu specialmente quando fai un progetto nuovo o riprogetti parti di sito web servizi touch point ti poni il progetto fin dall'inizio fin dall'inizio imposti la pagina le griglie l'ordine dei titoli i colori fin dall'inizio realizzi con bootstrap itali ma anche stando attento a non inserire criticità magari con best practice come quelle raccontare sul sito innovazioni di etichette laddove è necessario per segnalare link esterni per segnalare documenti eccetera eccetera e poi se curi il progetto tanto dopo se stai attento se fai delle regole redazionali fatte con in maniera oculata che poi sono semplici fondamentalmente ordine immagini testi alternativi eccetera la fase di validazione diventa piccolissima fondamentalmente le risorse qui linkate sono le linee guida agide ma più che altro il modello di autovalizzazione di agide che serve propedeutico alla dichiarazione e le vcag 2.1 perché quando la classica domanda esistono strumenti automatici di validazione ci sono molte risposte possibili esistono validano solo alcune cose eccetera ce ne sono tanti andrebbero usati tutti tutte queste risposte sono vere però ce n'è una che è la più vera di tutti bisognerebbe testare e il modo migliore di testare è partire dalla prima riga del modello di autovalutazione e chiedersi se è rispettata quella regola e provarlo semplicemente è solo un problema di perdere del tempo e di provare con strumenti anche automatici ma sono semplicemente una piccola parte quella dell'accessibilità poi fare test di usabilità e ho finito la parte principale poi vi faccio vedere l'appendice e raccolgo domande eventualmente è solo una slide questa per farvi capire che c'è il kit cliccabile per renderlo più usabile un servizio andrebbe testato mi sento di dire una cosa a voce il kit ovviamente è il kit che c'era anche prima è stato soltanto riorganizzato e è il kit progettato dal progetto EGLU il famoso progetto del ministero della funzione pubblica di questi anni che è stato integrato nelle linee guida e negli strumenti designers Italia qualche anno fa ormai si possono fare in molti moni i testi di usabilità quello è un kit tra i più validati che contiene molte risorse ve li trovate c'è il link kit ma comunque è facile trovarlo dal sito ormai però ci tenevo a dire due cose una classica domanda è quando fare i testi di usabilità mi sembra utile disambiguare quando si fanno allora si possono fare in tutte le fasi di prototipazione si possono fare anche a mano sulla parte cartacea si possono fare nella parte media qualità per esempio anche se spesso la risposta è una delle caratteristiche che emerge se non la spieghi bene ma non è che è grigio il sito ma il grigio è brutto e quindi ti tocca rispondere che è un prototipo è ottimo farli su prototipi in alta qualità che quindi hanno già la grafica del sito ovviamente magari limitati ad alcune funzioni è super ottimo e anche obbligatorio farli sul prodotto finito sul prodotto già codificato già reso codici in realtà obbligatorio nel senso che trovate negli nel senso che trovate negli annessi qua annex per chi di voi credo tutti anche meglio di me conosce il piano triennale 2020-2022 quello attualmente in corso vi ho fatto qui può essere utile un piccolo promemoria del capitolo servizi e in particolar modo di cosa devono fare l'EPA e gli obiettivi dell'EPA l'obiettivo 1-1 che scorro veloce perché più sviluppo magari lo affronterete meglio nelle prossime puntate è migliorare la capacità di generare e derogare servizi digitali quindi Web Analytics Italia come primo e unico servizio di Analytics Cloud First eccetera il catalogo del riuso eccetera e qui ce ne sono varie mi interessa mettere l'attenzione sull'obiettivo 1-2 migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità dei servizi per ricordarvi le date come le ricordano a me praticamente continuamente da settembre 2020 l'EPA devono fare riferimento alle linee guida di design come sapete sono anche in pubblicazione erano in consultazione è finita e tra poco saranno in pubblicazione le nuove che diventeranno legge diventeranno parte del CAD da settembre 2020 i testi di usabilità andrebbero comunicati ad Agile il nostro kit termina con l'azione via il form di Agile per comunicare i risultati dei testi di usabilità entro settembre 2020 stiamo parlando di mesi fa sempre su questo form .agile .gov .it ha pubblicato la dichiarazione di accessibilità eccetera nell'ultima pagina gli ultimi 4 sono sempre accessibilità quindi entro marzo obiettivi di accessibilità entro aprile comunicare se si sta usando un modello per adesso i modelli sono solo scuole comuni ma aumenteranno per rispondere già a molte domande che ho visto si spera è auspicabile che aumentino e parte anche dei piani degli anni prossimi che aumentino comunicarne l'uso quindi se un comune usa il modello dei comuni c'è il form per comunicare che lo sta usando entro giugno 2021 quindi siamo esattamente qua la dichiarazione di accessibilità diventa un obbligo anche per le app mobile fatte dalle pubbliche amministrazioni eccetera queste date sono lì da ormai un paio d'anni credo perché erano il piano triennale di due anni fa e ovviamente niente ovviamente niente mi fermo qua perché io ho fame come le avrete voi siamo arrivati qua e sono alle 16.17 so che sono un po' in ritardo ma so anche che non credo che ci siano interventi successivi al mio quindi abbiamo un quarto d'ora per domande e risposte io interrompo la condivisione se siete d'accordo l'unica cosa chiederei a Patrizia e agli altri della redazione di leggermi le domande per un motivo che quando premo interrompo sicuramente per un paio di minuti il mio computer fruggerà ti leggo io le domande non credo che tornerà subito la presentazione tranquillo ci sono delle domande per te ce n'è una poi per Ilaria quindi parto con quelle destinate a te e comincio da Luca Leonardo Scorcia che ti chiede è previsto che Bootstrap Italia versione 4 venga mantenuto o sarà definitivamente abbandonata una volta pubblicato l'aggiornamento a Bootstrap 5 allora guarda è una domanda tu mi fai una domanda che anch'io non conosco la risposta è auspicabile che tutti e due siano mantenuti per adesso c'è solo Bootstrap 4 il percorso di sviluppo è in via di definizione cioè come verranno mantenuti questi progetti ed è parte del lavoro dei prossimi mesi sono progetti che in parte sono manutenuti ovviamente dalla community ma hanno bisogno di un maintainer serio nei prossimi due anni visto anche l'impatto che avranno sui progetti del sviluppo dei servizi previsti dal PNRR quindi sicuramente ci sarà un lavoro oculato è già usato da nettissime pubbliche amministrazioni stiamo lavorando a mettere in piedi questo percorso quindi è tutto in divenire stimoli in questo senso magari sulle community su forum e su Slack saranno benvenuti perché aiuteranno anche nel supporto a questo lavoro insomma ok passo a una domanda di Raffaele Morelli c'è qualcosa di analogo che utilizzate per mobile app magari con ambienti ibridi tipo Ionic più React o Ionic più Angular mi scuso se ho pronunciato male allora no no è pronunciato abbastanza bene era molto chiara la domanda allora il kit di interfaccia utente quindi ovviamente tutta la parte di progettazione si può usare tranquillamente anzi contiene già griglie eccetera il kit di sviluppo frontend diciamo che non c'è un kit dedicato quindi non esiste è vero che sia Bootstrap per web app che React sono abbastanza manutenuti e lo saranno sempre di più nei prossimi mesi in parte sarebbe auspicabile ci fosse in questo momento non ci sono le risorse di curare librerie ad hoc però se nascano benvenga le slide vi consiglio di guardarle dal link che ha postato prima Patrizia perché io non riesco a ricondividere lo schermo senza bloccarmi il computer adesso sì allora vado avanti ti leggo quella di Marcello De Marca che dice esistono modelli per i siti web per le università allora in questo momento no modelli ufficiali designer di Italia no so che ci sono molti lavori so che ci sono alcune università che già stanno realizzando siti web a norma linea guida basta fare una piccola ricerca insomma nelle comunicazioni degli ultimi mesi è auspicabile che ci sia sinceramente i modelli saranno sempre di più anche perché permetteranno di standardizzare l'esperienza utente non è tanto è vero che hanno anche lo scopo di rendere facile una pubblica amministrazione essere a norma essere coerente con gli altri avere il miglior prodotto però è anche vero che il fine ultimo è creare un'esperienza condivisa utile per tutti noi anche come cittadini quindi è auspicabile che siano sempre di più e che rimangano aperti modificabili integrabili personalizzabili il più possibile quindi è auspicabile direi per ora non so altro allora aspetta che andiamo avanti e ti leggo la domanda di Remo Pulcini scusate da non esperto non sarebbe più semplice creare dei template distinti per tipologia e modificabili? allora i template in realtà sono i template dei modelli penso si si riferisca sono esattamente quello sono progetti distinti in cui c'è tutto il progetto ma c'è anche dei template distinti e modificabili fondamentalmente cioè sono esattamente quello in realtà in cui si può modificare varie parti si può modificare gli scenari le architetture i wireframe dipende il grado di personalizzazione che si vuol dare o si può modificare il prodotto finale solo nel caso di scuola si è deciso di fornire anche un template direttamente con un CMS attaccato quindi con un content management attaccato che è WordPress il più diffuso nelle piccole realtà è utilissimo per piccoli siti perché le scuole ovviamente notoriamente non hanno risorse per sviluppare stavo dicendo che nel riuso ci sono anche siti dei comuni per esempio con CMS attaccato ma c'è anche solo il template che si può personalizzare eccetera le soluzioni al riuso sono utili magari nei casi di piccoli comuni o nei casi di voglio usare Drupal uso già Drupal se c'è il riuso lo riuso direttamente poi nelle prossime puntate in realtà su domande di sviluppo i miei colleghi di Developers Italia sul catalogo del riuso e sulla procedura vi racconteranno abbastanza penso allora ce n'è poi una Stefano Flaminni che ti dice è stato citato un software spagnolo open source per i kit allora esiste in questo momento i software di design per i servizi digitali sono solo tre non ce ne sono altri in realtà che sono Sketch, Figma e Adobe XD non è che sta facendo pubblicità a nessuno ci sono alternative ma nessuna valida allo stesso modo Figma sta soppiantando tutti in questo momento a livello commerciale non è uno strumento suggerito semplicemente perché non è uno strumento open source Sketch fu scelto qualche anno fa in fase di definizione dei kit perché era uno strumento che permette di avere in uscita un file che è comunque un file readable un file leggibile quindi mettibile su GitHub e apribile anche con altri software open source però stavo citando un software spagnolo perché c'è un software spagnolo in questo momento di cui non ricordo il nome ma posso procurarmelo che sta facendo una specie di porting sta creando una specie di software di design simil Figma se vogliamo in cui in questo momento non è possibile importare kit di designers ma è possibile fare prototipi per esempio e quello è completamente open source il nome non lo ricordo sinceramente ma basta fare un po' di ricerca è auspicabile che se diventa stabile e esce dalla versione alpha le prossime release magari di kit UI e kit wireframe si adattino anche a essere caricate in questo software se prevedono una versione aperta perché sarebbe lo strumento ideale diciamo per la pubblica amministrazione essendo open source è chiaro che la pubblica amministrazione è all'obbligo dell'open source specialmente negli strumenti che suggerisce all'esterno internamente deve usare gli strumenti che usano gli altri se no non riesce a progettarli tutti i prototipi che vi stanno fornendo i vostri fornitori scommetterei che sono in sketch o in figma o in vision non è che c'è molte altre possibilità in questo momento allora la prossima domanda è per Ilaria quindi Ilaria se ti colleghi un attimo Stefano Giraldi dice una domanda per conoscere il punto di vista del team digitale in merito ai piccoli comuni italiani quasi dieci milioni di italiani risiedono in comuni con meno di cinquemila abitanti nei quali è difficile trovare in pianta organica competenze digitali specifiche nella progettazione dei servizi ma anche più in generale nella trasformazione digitale in questi contesti l'RTD se nominato è un responsabile di settore che vede questo ruolo più come un adempimento normativo che come un ruolo di responsabilità come team digitale sono state fatte delle valutazioni per questo contesto grazie per il punto di vista ci sei Ilaria sì grazie Patrizia allora il team digitale in passato ha coinvolto anche piccoli comuni comunque nei lavori svolti per poi andare a delineare il vero e proprio modello comuni ad esempio quindi questa è una prima risposta oggi come dipartimento per la trasformazione digitale le valutazioni che stiamo facendo sono diverse grazie anche a delle iniziative di ricerca come dicevamo prima con gli stakeholder e gli utenti stiamo scoprendo sempre di più diciamo il contesto e le dinamiche di questo tipo di progetti in primis Designers Italia vuole diffondere un tipo di cultura progettuale che sia abilitante per tutti diciamo gli operatori pubblici e per i dipendenti della pubblica amministrazione per essere in grado comunque di trattare il tema della progettazione di servizi pubblici digitali come ha menzionato diverse volte Daniele nel suo resoconto sappiamo che in questo contesto hanno un ruolo chiave i fornitori per i comuni così piccoli spesso la soluzione è diciamo l'aggregazione la collaborazione un approccio partecipato di comunicazione tra i diversi enti piccoli e diciamo di coalizione anche nell'ingaggio di un fornitore abbiamo visto spesso che la dinamica funziona un po' così quindi un'aggregazione di comuni si rivolge ad un fornitore che sviluppa una soluzione poi diciamo customizzabile fino a un certo punto per ciascuna realtà quindi con diciamo con gli strumenti Designers Italia noi non ci aspettiamo che siano le PA solo le PA ad adottarli ma anche i propri fornitori infatti sono strumenti anche molto operativi ma la vision di Designers Italia è in primis di ottimizzare la comunicazione tra diversi enti e tra gli enti e i loro fornitori in house o esterni sul tema di una progettazione dei servizi digitali che sia virtuosa quindi noi ci riproponiamo di fare un po' da anello di congiunzione per raggiungere una visione condivisa e ottimizzare anche voi tutti la comunicazione e anche a livello operativo l'interazione tra queste diverse realtà che poi progettano insieme diciamo allora io ripasserei grazie Ilaria la parola rapidamente a Daniele perché abbiamo soltanto due minuti ok io provo a rispondere velocemente ad alcune domande che leggo qua tra quelle arrivate Franco Carcillo occorrerebbe un'antologia dei servizi almeno minimale la risposta è sì perché ogni comune utilizza un ampio differenziato linguaggio burocratico poco centrale sull'utente tutto vero e ci stiamo lavorando se volete contribuire sulla piattaforma Slack developers Italia c'è il canale design siti comuni dove ogni tanto ci sono anche in questo momento discussioni con i primi comuni early adopter e con i nostri esperti che stanno lavorando al futuro dei servizi per definire proprio quello ontologia di servizi centralizzati o migliorabili eccetera e poi avere il modello applicato di diffusi CMS è fondamentale è fondamentale ma è ovviamente un effort di risorse enorme e c'è bisogno del contributo di tutti su questo bisogna che la community lavori tanto e le prossime puntate di developers e più che altro bisogna che i comuni e anche gli altri mettano in riuso soluzioni che è un po' il fine di non tanto farsi sviluppare soluzioni le migliori possibili farsi sviluppare soluzioni che mettendole in riuso migliorano la qualità di tutti fondamentalmente però rimando alle prossime puntate questo vediamo Paolo Accardi nella progettazione conviene distinguere l'user experience tra mobile e desktop oppure è sufficiente affidarsi al responsive allora io non c'è una legge universale ovviamente quello che qui dentro stiamo cercando di fare da qualche anno è principalmente si progetta prima il mobile quindi si fa mobile first non solo responsive quindi si progetta prima l'esperienza mobile se guardate i modelli per esempio comuni e scuole nei wireframe e negli scenari vi accorgete che sono quasi tutti mobile ovviamente ci sono alcuni scenari che prevedono back office quindi intervento anche di operatori del comune o delle scuole che praticamente prevedono anche la parte desktop il sito poi è responsive nel senso che è a volte adattativo nel senso che allargandosi dal desktop dal device che ormai è il nostro strumento di accedere al digitale c'è più posto se possono inserire anche altre cose non solo far vedere le stesse più grandi io personalmente poi come esperienza personale se può valere il progetto prima il mobile è quasi unicamente il mobile ovviamente è facile riciclare una volta che hai tanti progetti fatti è anche vero che la cosa interessante è che noi stiamo mettendo a riuso tutto quello fatto quindi non è che solo io ho tanti progetti fatti o solo i miei colleghi tutti li hanno volendo basta aprire quei file sketch già fatti fare copy and call cambiare Matteo De Luca si sta già lavorando per aggiornare parte del libro di sketch all'opzione di automatismi di Figma allora si sta lavorando allora intanto il file sketch si può aprire in Figma e su questo siamo d'accordo della libreria non fa funzionare gli automatismi come fa funzionare quelli di sketch sarebbe auspicabile che lo facesse in questo momento ci stiamo lavorando l'unica risposta che posso dare perché ci sono dei limiti di di sketch Figma è comunque un software in cloud che quindi utilizza fa usare molti dati in cloud e quindi ci sono tutti i limiti che GDPR ci impone a fare un kit del genere però ci stiamo lavorando e non dico di più sarebbe ottimo perché come dicevo prima è uno degli strumenti più usati però sketch è uno strumento che usano tantissimi continuamente diciamo che le opzioni di interfaccia sarebbero interessanti per lavorare con gli altri interfaccia cloud credo di aver risposto a tutti vediamo un po' è possibile pensare a un template dedicato alla sezione amministrazione trasparente teoricamente deve essere uguale per tutte le PA per legge è possibile la risposta può essere solo sì ci sono stati vari lavori in questi anni io non so rispondere però non ho una risposta precisa se c'è un lavoro in corso in questo momento spero di sì sinceramente perché è veramente una sezione particolare nel modello comune nell'architettura e nel progetto nella documentazione trovate un esempio molto interessante di come potrebbe essere l'amministrazione trasparente direi di aver risposto a tutto quello che mancava forse spero di non aver saltato nessuno scusate per la brevità delle risposte poi ovviamente forum italia slack developers siamo sempre lì basta taggarci basta scrivere oppure scrivere al sito grazie a te credo di aver detto tutte abbiamo saltato anche le conclusioni io vi ringrazio per l'ascolto io vi ringrazio sì vi ringrazio tantissimo credo che sono stati più numerosi degli altri che nell'altro webinar questa volta perché appunto ho visto che ci siamo collegati fino a cento persone quindi ringrazio tantissimo Ilaria Scarpellini e Daniele Tabellini che non ci perdiamo questo per rassicurare diciamo tutte le domande che sono arrivate in coda alla fine vi ricordo che il prossimo appuntamento è il 6 luglio non il 29 che a Roma è festa perché San Pietro e Paolo quindi ci ritroveremo il 6 luglio martedì sempre alle 14 e 30 a parlare di open source come sviluppare nuovi servizi pubblici in modalità open source e quindi affronteremo questo tema a partire dalla descrizione della normativa di riferimento vi saluto e vi ringrazio e allora fra due martedì grazie mille ciao a tutti grazie mille 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 grazie mille